I cinque pomeriggi dedicati alla storia e alle bellezze della città trimillenaria si aggiungono al calendario degli eventi presentati dal Comune di Erice per quanti amano curiosare tra reperti antichissimi documenti che testimoniano l'importanza storica della città di Erice e per coloro che, anche attraverso la sua geomorfologia, ne apprezzano le bellezze. La rassegna si è aperta i primi di agosto con uno studio sulle cisterne della regia marina di Monterice che ha visto le relazioni dell'ingegnere Roberto Mazzeo e del geologo Roberto Grammatico. Successivamente è toccato alla professoressa Stefania Lavia che ha parlato dell'importanza degli archivi parrocchiali mentre, giovedì scorso, il professor Antonio Filippi ha illustrato la storia del territorio vicino. Questo pomeriggio, sempre alle 17.30, nel Salone di Casa Santa di San Francesco di Sales, sarà invece la volta della presentazione del libro del professor Salvatore Corso dal titolo Erice Umunti. La rassegna si concluderà il 31 agosto con l'incontro del professor Maurizio Vitella dedicato all'iconografia mariana nelle diocesi del territorio trapanese.